Alberto Dotta, Consorzio Forestale Alta Valle Susa, ente che si occupa della gestione integrata del territorio, tipicamente alpino dell'Alta Valle Susa, con una tradizione quasi di 700 anni di gestione del territorio. Importante la ricerca del Consorzio Forestale nella gestione, in qualche modo, dei diversi portatori di interesse che operano all'interno del territorio. Quindi cerchiamo una gestione equilibrata del territorio. In questo, la collaborazione con la città metropolitana, con il sistema delle aree protette della città metropolitana, è fondamentale perché cerchiamo di evidenziare, assieme alla città metropolitana, come una gestione equilibrata del territorio possa essere fatta sia all'interno delle aree protette che esternamente a queste, per cercare di rendere sostenibile una gestione del territorio alpino.